Strategia digitale, idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online e business online a cura di Giulio Gaudiano Bentrovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale Direi che la settimana è iniziata la grande e spero pure per voi stia andando avanti in maniera sorprendente Oggi ascoltiamo insieme la domanda di uno di voi ascoltatori Una vecchia voce, Massimiliano Berto, il quale lavorando in una grande azienda incontra i problemi della grande azienda Per cui è tutto bello quando parliamo di strategia digitale, quando ascolti il podcast di Giulio Gaudiano che ti dice tutte le sue strategie carine, però poi lo porti nella multinazionale e sta roba funziona o non funziona? Quali sono i problemi reali? Questo è il motivo per cui mi piace ricevere le domande da voi perché andiamo nella realtà a lavorare alle vostre strategie digitali Prima di ascoltare la domanda di Massimiliano voglio ricordarvi che strategiadigitale.info è il luogo dove andare per mandare la domanda A volte qualcuno mi scrive Giulio dove ti mando la domanda e me la mandi scrivendomi, anzi mandandomi un bel messaggio vocale al pulsantone via Telegram trovi l'accesso al pulsantone che trovi a strategiadigitale.info Quindi ragazzi fatevi sotto con le domande e naturalmente la domanda di oggi sono sicuro che stimolerà molti di voi almeno quelli che lavorano in azienda e quindi bando alle ciance andiamo ad ascoltare direttamente la domanda di Massimiliano Alberto su come parlare ai propri clienti Ciao Giulio, ho una nuova domanda per te Come sai lavoro in una multinazionale e oggi è tornato alla ribalta un problema che ci affinge da mesi se non da anni che è questo, noi serviamo esclusivamente clienti per il B2B quindi per esempio ci rivolgiamo a concessionarie auto la domanda è questa, oggi ho fatto un post su Facebook scrivendo una cosa del tipo la tua auto sempre protetta con i prodotti Pinco Pallino in realtà è venuto fuori questa mini questione, no, bisognava scrivere, l'auto dei tuoi clienti sempre protetta e bim bum bum cioè la domanda è questa, cos'è giusto, cos'è sbagliato e c'è ancora questa cosa del B2B, B2C o siamo passati a questo human to human di cui sento parlare a te ovviamente sfondo una porta aperta però ecco, non so, se vuoi aiutarmi a dire qualcosa in più qui non sarebbe male grazie, ciao grazie a te Massimiliano, mi hai fatto sorridere con sta storia dello human to human è bello perché nel mondo del marketing ci sono le mode, no? e allora vai a un convegno, un evento, senti il grande speaker che ti lancia una nuova idea un nuovo paradigma, un nuovo modo di vedere le cose e questo è una cosa virtuosa, è buono perché nel marketing ci sono gli operativi ci sono quelli che tutti i giorni stanno lì a far robe che facciano vendere i prodotti o i servizi in fondo questo è il marketing, no? è costruire negli altri la consapevolezza che quando hanno bisogno di un martello lo devono venire a comprare da te perché tu hai quello che gli serve veramente e poi dall'altra parte ci sono i filosofi del marketing, ci sono i pensatori e io sono un amante dei pensatori e dei filosofi del marketing perché capire le cose, acquisirne consapevolezza, rifletterci sopra è essenziale cioè solo gli operativi non funzionerebbero perché ci sarebbe una tale frammentazione dal punto di vista della strategia che ognuno farebbe discorso a sé dall'altra parte solo filosofi non venderebbero perché starebbero tutti là tutto il giorno a trovare interpretazioni, modelli, immagini evocative e poi alla fine non concluderebbero niente quindi secondo me bisogna un po' bilanciare queste due correnti perché dico questo? perché hai tirato in ballo il discorso dello human to human prima di tutto diciamo a chi non è pratico perché so che ascoltano strategia digitale anche tantissimi giovani e questo mi fa un piacere immenso immenso ragazzi che stanno facendo l'università o addirittura qualche liceale attenzione ragazzi e quindi voglio un attimo disambiguare perché a me i termini che non si capiscono bene mi stanno antipatici Massimiliano di che cosa sta parlando? quando parla di B2B o B2C intende business to business quindi business, attività, aziende che vendono i loro prodotti o servizi ad altre aziende le quali poi li vanno a rivendere al cliente e business to consumer quindi aziende che vendono i brand che vendono prodotti o servizi direttamente al cliente finale questa contrapposizione è tipica del mondo business giusto appunto per capire come ragioni anche a livello di tempi, di operatività, di marketing c'è sempre questa divisione ma tu lavori nel B2B o B2C ecco si dice superata almeno da molti commentatori da un age to age human to human direi anche persone con persone esseri umani con esseri umani quindi qual è l'idea di fondo di questo approccio? che fondamentalmente tu non è che sei ti cambi il vestito quindi vai al lavoro sei B2B poi vai fuori a casa e devi comprare il latte e diventi B2C no, non è così sei sempre un essere umano quindi molti filosofi del marketing dicono dobbiamo cambiare approccio parlare alle persone io con questa cosa sono abbastanza d'accordo mode del momento a parte anche perché non è questione di è passata la moda non parliamo più di questo parliamo di quell'altro è questione di vedere cosa funziona nella realtà noi tutti ogni giorno siamo molte diverse cose siamo professionisti siamo papà o mamme siamo figli o figlie siamo mariti, moglie, partner siamo zii siamo tante cose siamo amici siamo nemici cambiamo il nostro modo di essere in relazione a qualcuno quindi è importantissimo non studiare la comunicazione ma studiare la comunicazione in relazione a questo è fondamentale allora per poter parlare di comunicazione in relazione a io devo conoscere chi c'è dopo quel a comunicazione in relazione a Massimiliano comunicazione in relazione a Francesco e nel conoscere Massimiliano e Francesco devo capire che Massimiliano è il dipendente di una multinazionale e per conoscere Francesco devo sapere che Francesco è un meccanico o è un rivenditore di ricambi per auto quando io conosco chi c'è dall'altra parte ma non conosco nella serie parlo con i ricambisti ma conosco, so chi c'è dall'altra parte so che sei Francesco che c'è un negozio a Pistoia Sud ora io non sono mai stato a Pistoia però in via Rossi a Pistoia e sei uno che è appassionato del proprio lavoro che quando non vende ricambi per auto fa modifica i motorini o le automobili e va a fare le gare ecco, devo capire chi ho davanti per fare questo il marketing naturalmente per portarlo sui grandi numeri di una multinazionale come la tua utilizza le buyer persona persona in latino vuol dire maschera e la maschera è la stilizzazione di un atteggiamento il vecchio burbero la vecchia pettegola il giovane rampante ecco, la persona la buyer persona è la maschera del nostro buyer del nostro cliente e creare una stilizzazione di quella tipologia di nostro cliente ci aiuta a livelli di grandi numeri a ragionare per poter comunicare in maniera efficace in relazione a quindi in relazione alla buyer persona non è un caso ne abbiamo parlato proprio oggi con i miei compagni di Mastermind ci sono addirittura dei tool c'è uno dei miei compagni Marco che è molto attivo sta lavorando sulle buyer persona non è un caso che esistano dei tool per creare queste buyer persona ma non solo che le buyer persona ti richiedano una foto un nome quando crei la persona cioè io non sto parlando di non lo so del giullare sto parlando di Arlecchino sto parlando di Pulcinella sto parlando di Francesco ecco chiamare le persone in una certa maniera le buyer persona ci aiuta ulteriormente a entrare nella conoscenza di questa astrazione è vero sì ma è una astrazione nata dagli aspetti comuni di una certa tipologia di clienti quando posso andare oltre a questo quindi oltre a strutturare la mia comunicazione in relazione a una buyer persona quando posso conoscere la persona e allora qui entriamo nel vero cuore di quello che mi stai dicendo Massimiliano tu hai posto il fuoco sulla comunicazione dicendo ecco vi detto la tua auto sempre protetta no l'auto dei tuoi clienti sempre protetta ma la comunicazione cambia radicalmente non è che cambia di poco quando parli con una persona o con l'altra e allora l'argomento del sempre protetta è un argomento caldo magari sul B2C quindi quando vai direttamente al cliente finale perché il cliente finale è il padrone di quell'auto e la vuole proteggere ma quando vai sul B2B quando la vai a rivendere al rivenditore magari non è l'idea non è l'auto dei tuoi clienti sempre protetta ma è ogni tuo cliente ti chiederà questo antifurto ok cioè quindi l'idea che il cliente entrerà chiederà qualcosa e tu ce l'avrai avrai disponibile quella cosa da dargli ecco sono altre le leve non mi importa non puoi puntare sul pain point della protezione della sicurezza puntami sull'essere all'altezza per esempio delle richieste del cliente quindi cambia radicalmente la comunicazione allora non si tratta di un cambiamento piccolo ma di un cambiamento grande dove sta però la magagna di tutta questa situazione nella quale stai Massimiliano sta nella parola Facebook quando hai detto oggi ho fatto un post su Facebook è tutto lì bisogna capire come funziona questa comunicazione sui social e come funziona questa comunicazione one too many nella comunicazione one too many che è amatissima da tutti quelli che utilizzano il digital che roba è sta comunicazione one too many è che io pubblico un post su Facebook e poi Facebook fa vedere questo post a tantissime persone oppure che ho la mia lista su GetResponse su Aweber su MailChimp creo una bella email e la mando e la riceve tutta la lista di centinaia di migliaia di persone che hanno lasciato il loro indirizzo email quindi in un click mando il mio messaggio ha un impatto enorme questa roba qui anzi scusami ultima parentesi addirittura quelli fighi che cosa fanno personalizzano questi email e ci mettono delle variabili per cui il software va a prendere dal database il nome e ti manda un'email personalizzata ciao Massimiliano abbiamo il miglior antifurto per proteggere la tua auto Massimiliano facci sapere se a Roma trovi anzi nel tuo caso a Verona trovi un miglior antifurto di quello che ti vogliamo dare noi quindi va a prendere le informazioni Massimiliano Verona e ti va a personalizzare il messaggio rispetto alle tue caratteristiche questa sembra una gran figata il problema è che capisci da solo che questo tipo di comunicazione ha una menzogna insita la menzogna è che io ti mando ti scrivo perché mi interessa di te mi interessa realmente che la tua auto sia protetta o mi interessa realmente che tu abbia il prodotto da dare ai tuoi clienti e in realtà non è così una frase illuminante del Clue Train Manifesto la parte ultima le nuove tesi che ho avuto l'onore di portare in Italia traducendolo curando l'edizione critica in italiano ve lo metto nelle note dell'episodio ecco una delle tesi del Clue Train Manifesto dice personalizzato non è personale personalizzato non è personale cioè il fatto che io ti riesca a mandare un messaggio personalizzato dove c'è il tuo nomino studiato in base o ti riesco a mostrare una landing page studiata in base alla tua query di ricerca o il Facebook mi aiuta a mandarti un messaggio ricordandoti che un anno fa in questo giorno ci siamo ecco a me tutte queste cose mi danno fastidio profondamente perché in fondo dietro ci sta che tu vuoi fare l'essere umano vuoi fare il personale anzi il personalizzato ma non essendo personale mi sento in qualche modo preso in giro allora secondo me Massimiliano ora poi dimmi tu magari ecco mi dici Giulio ma scusa io ho postato io ho avuto un aumento del fatturato giornaliero cioè ho avuto grandissima attenzione ho avuto dei commenti entusiastici sul mio post se è così per carità ti offro una birra la prossima volta che ci vediamo io non credo che sia così perché lo sai perché non ci credo perché al di là della retorica di facebook tutti questi vai vai su facebook diventa ricco e famoso vendi prodotti fai la facebook ads che sembra che se non stai funzionando su facebook è perché non sei non sei capace tu non hai studiato bene non hai applicato i criteri di comunicazione efficace non hai studiato facebook ads e invece non è così e invece è che fondamentalmente facebook funziona nella misura in cui connette le persone in cui è uno strumento esattamente come il telefono la lettera di carta l'email l'instant messenger il messaggio whatsapp se è un mezzo per connettere realmente le persone e permettergli di comunicare anche magari in forma asincrona quindi non importa che siate lì contemporaneamente come al telefono va bene che siate in due momenti diversi ma se vi connette se connette le persone funziona se sei tu che alle 17 e 27 del pomeriggio dici ah oggi nella mia to do list di lavoro devo mandare un post su facebook e mandi il post su facebook con il copy pubblicitario la tua auto sempre sicura con i nostri prodotti capisci che non serve assolutamente niente cioè lascia totalmente il tempo che trova salvo poi che facebook questo te lo dico per esperienza personale perché abbiamo condotto con un cliente un esperimento di un mese su questo facebook ti tiene come un sorcio in gabbia cioè come un topo da laboratorio sai che succede quando cominci a mettere una redazione su facebook una redazione ben trainata cioè ben allenata molto professionale che all'inizio hai molta più visibilità hai molto più riscontri aumentano le visite sul sito i passaggi da facebook al sito web aumenta l'interazione tutto molto figo poi a un certo punto facebook che come sai è maestro nel capire cosa sta dietro i comportamenti dice non vedi questo che ha messo lì una redazione chissà quanti soldi gli dà e non ha fatto la pubblicità che zuzzone facciamo così va chiude un pochino il rubinetto della rich e vede se inizi a fare campagne pubblicitarie dalla tua pagina subito prima naturalmente ti aveva mandato dei post dicendo il tuo post x y sta performando meglio del 99,99% dei tuoi post perché non gli metti un piccolo budget pubblicitario e lo aiuti aiutaci ad aiutarti aiutaci a darti visibilità ma facebook è cattivo no ma lui fa il suo business ragazzi ma come le paga come le paga le bollette dei server che ci servono facebook veloce efficiente che funzioni in maniera decente sul nostro smartphone o sul nostro computer 24 ore su 24 e quindi facebook fa il suo business è giusto ma non cadiamo in questo errore la comunicazione non deve essere ti sparo una roba ti metto una vetrina davanti alla faccia ma deve essere entro in una relazione con te in un dialogo e allora scusami massimiliano ma secondo me avrebbe avuto molto ma molto più successo la tua strategia in termini numerici cioè non una roba così spirituale in termini di fatturato se tu ti fossi messo là e magari fossi andato a vedere gli utenti che avevano interagito con i tuoi posti in passato avessi cliccato sul loro nome fossi andato lì a mandargli un messaggio un messaggio personale attraverso messenger e gli avessi detto ciao marco vedo che vive a pistoia senti ma cosa ne pensi degli antifurti pinco pallino e marco ah ciao beh guarda io li vendo bene ah si li vendi bene ma lo sai che c'è anche un nuovo modello te lo dico perché comunque è un modello che viene richiesto tantissimo dai clienti e molti dei nostri clienti che non ce l'hanno in negozio poi magari si trovano il cliente che dice ho visto online ho visto sulla televisione la pubblicità del nuovo modello quindi l'hai mai provato ah no non l'ho ancora provato ah perché non lo provi guarda te ne mando uno oppure ma fai un ordine di prova ecco questa idea della conversazione per capire qual è l'esperienza degli altri io non sto parlando di vendere via chat la roba stalkerizzando quelli su facebook ok capiamoci quello che sto dicendo è di avviare delle vere conversazioni perché quando tu sai chi c'è dall'altra parte sai che tipo di comunicazione creare allora non ti posso rispondere io Massimiliano non ti posso dire è giusto o sbagliato chi ha ragione te che dicevi la tua auto sempre protetta o il tuo superiore che ti ha detto no l'auto dei tuoi clienti sempre protetta e discutete in sala riunioni non posso rispondere io lo sapete voi ma quella la risposta giusta che ce l'avete voi la ricavate andando a lavorare non sull'advertising sulla social advertising vado lì e ti sparo lo slogan televisivo vado a lavorare sulla social interaction sull'interazione sulla connessione sulla relazione con le persone che stanno dall'altra parte di facebook che non sono dei numeri dei mi piace dei grafici sono delle persone in carne e ossa nella relazione con loro con una profonda comprensione delle loro realtà che poi visto che stai parlando dei numeri di una multinazionale ti porteranno ad astrarre alcune delle loro caratteristiche alcuni dei loro pensieri ma ricavati dalla vita reale dal dialogo reale e creare delle marketing persone creare dei modelli che ti consentiranno di comunicare anche grandi numeri in maniera molto più efficace siamo arrivati alla fine della nostra puntata allora massimiliano spero di averti dato degli spunti utili da portare in ufficio da condividere con i tuoi colleghi magari e se voi che state all'ascolto volete condividere quello che ci diciamo a strategia digitale sapete che il luogo dove mandarli è naturalmente strategiadigitale.info sono particolarmente gasato perché massimiliano è uno dei finanziatori di strategia digitale storico ormai e ha partecipato alla ultima riunione di redazione ho cominciato ultimamente a fare delle riunioni di redazione di redazione con i finanziatori di strategia digitale che di solito stanno in un gruppo facebook al loro riservato e che hanno in maniera così estemporanea la possibilità di entrare in diretta in una call dove parliamo e programmiamo insieme la settimana di strategia digitale allora c'erano sia massimiliano che alessio si sono combattuti no sto scherzando c'era due domande allora alla fine massimiliano ha vinto nel senso che alessio è stato così gentile da cedergli il suo posto con grande cavalleria e quindi oggi rispondiamo alla sua domanda se vuoi diventare anche tu finanziatore di strategia digitale produttore operativo e partecipare alle nostre riunioni di redazione sai che puoi andare sempre lì strategiadigitale.info e diventare produttore portandoti a casa anche delle ricche ricompense perché io sono veramente grato a coloro che finanziano il nostro progetto e faccio di tutto per poterli rendere felici allora un grazie ai nostri produttori ai nostri finanziatori grazie anche a Sara Veltrico autrice del programma al nostro fonico Costanza Mineo e a Radiospeaker.it per il sound design ragazzi grazie mille e alla prossima strategia digitale idee novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online e business online a cura di Giulio Gaudiano grazie mille grazie mille Grazie a tutti.